Due persone, un uomo e una donna ancora non identificate ma dall'apparente età di una trentina d'anni sono state ritrovate morte poco dopo le 13 di oggi all'interno di un'auto ferma nelle campagne del Mantovano tra Ostiglia e Cerea. Nell'abitacolo un tubo di plastica collegato allo scappamento farebbe pensare a un tentativo di suicidio. Sui corpi però c'erano anche ferite di arma da fuoco.